Buona domenica a tutti, volevo darvi il risultato delle elezioni dell'RSU per la regione Emilia-Romagna che si sono svolte nella sanità nel 17, 18 e 19 aprile. Il risultato per FIALSA è molto positivo, ma prima di entrare nel merito vi do i numeri generali. Intanto il primo dato è che gli aventi diritto rispetto al 2015 sono calati di 671 unità. E' evidente che tra tutte le aziende sanitarie di Emilia-Romagna abbiamo perso quindi 671 rapporti di lavoro. Questo per dire come Cigelle e Cislewila hanno sempre vantato un grande lavoro sugli organici, complessivamente a tre anni di distanza, anche nell'elettorato questo dato è assolutamente negativo, indice di carenze organiche che non si sono risolte ma addirittura continuano. Il dato positivo invece dei votanti è che la media regionale è del 65,97% con un incremento del 3,35% rispetto al 2015. Quindi in termini assoluti 2.362 dipendenti sono andati a votare in più rispetto al 2015. Andiamo invece alle medie dei voti riportati dalle sigle, partendo dalla Cigellewila che con un 35,49% di un dato medio regionale perde l'1,82% circa rispetto a tre anni fa. Stessa sorte per la Cisla che è attestata circa il 22,03% con una diminuzione del 2,69% rispetto a tre anni fa. Will dovrebbe essere il 14,77% con un decremento dello 0,46%. Poi arriviamo Fialz che ovviamente non solo si mantiene e consolida il fatto che è il primo sindacato autonomo a livello regionale ma addirittura incrementa del 3,73% i propri consensi che si attestano al 13,30% più 3,73% rispetto a tre anni fa. Poi abbiamo il Nursing che registra un dato medio del 5,67% quindi più 1,11% rispetto a tre anni fa. Nursing up 4,23% diminuisce dello 0,33% rispetto a tre anni fa. Per quanto riguarda FSI USA e FSI, questa sigla si è sdoppiata in due complessivamente ha perso lo 0,28% rispetto a tre anni fa. Sigli minori come SGB 0,7%, USB 0,52%, Cobas 0,33% e Cube 0,30% sono le ultime sigle che in percentuale inferiore quindi all'1% si sono presentate. Allora vediamo un attimo qual è il dato politico secondo noi, secondo FIAS a Emilia Romagna. Intanto questa elezione si è caratterizzata come un vero e proprio referendum contro l'ipotesi del rinnovo contrattuale. È evidente che CGL e CISLUIL perdono il 4,97% rispetto a tre anni fa. un risultato negativo quindi per loro e che di fatto sono bocciati dai lavoratori. Di questo 4,97% 3,73% prendono la strada di FIAS, quindi i lavoratori escono da CGL e CISLUIL. Il primo sindacato, e ci fa piacere, ringraziamo per questo, che vedono come alternativa CGL e CISLUIL FIAS che di questo 3,97% il 3,73% incrementa quindi il proprio consenso. Solo in minima parte il NURSING 1,11% e addirittura il NURSING GAP in calo. Quindi è evidente il fallimento anche dell'espressione del sindacato di categoria espresso da NURSING e NURSING GAP. In realtà sono presenti solo in modo consistente nell'Aus Romagna dove peraltro non hanno ottenuto né nessun tipo di risultato e neanche si sono messi in luce per una particolare propositività sui tavoli contrattuali e neanche dal punto di vista delle vertenze. Ringrazio tutti, ovviamente i nostri candidati, chi ha lavorato ai seggi, gli scrutatori, comprende le commissioni elettorali. È evidente che c'è circa un 34% di persone che ritengono ancora di non andare a votare e noi ci rivolgiamo soprattutto a loro perché se vogliamo che cambi la sanità, se vogliamo lavorare meglio, se vogliamo garantire dei servizi di qualità, occorre anche una maggiore partecipazione alle attività sindacali, ma anche di consultazione per dare chi se lo merita, e noi riteniamo che se lo meriti un maggiore peso nelle trattative per tutelarvi di più e per rappresentarvi ancora meglio. Grazie, buona domenica, alle spalle vedete un bellissimo glicine, noi siamo un po' come il glicine che esprime la sua forza allungando i propri rami, andando in tutte le direzioni e quando incontra degli ostacoli ovviamente li rimuove e quindi costruisce il proprio sviluppo nel tempo, nella distanza e anche nella tenacia con la quale anche Fialz si mostra negli ambienti di lavoro. Grazie e buona domenica. Grazie.